La Federal Reserve sta vincendo le sue battaglie ma alla fine rischia di perdere inesorabilmente la sua guerra. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Lo so, alcuni di voi potrebbero essere delusi e lamentarsi di questa mia analogia. Ne sono ben conscio, le vere guerre sono altre e anzi va tutta quanta la mia solidarietà verso quei territori, quelle persone che ora stanno soffrendo. Spero addirittura che non si allarghi ulteriormente questo conflitto, i vari conflitti che ci sono. Per l'umanità e per tutti quanti noi. Tuttavia, questa figura retorica per me è perfetta, non ho trovata una migliore per andare a descrivere il racconto di questo video. E a cosa mi sto riferendo? Per battaglia intendo questa volontà, sfrenata da parte della Fed, di dirci continuamente che i tassi si manterranno alti e più a lungo. E' l'unico cambiamento che potrebbe esserci, anzi è qualche ulteriore rialzo e di tagliarli. Non se ne parla proprio minimamente da qui a tutto quanto il prossimo anno. Sono questi i discorsi, il mercato se ne è anche convinto e quindi sia l'azionario che l'obbligazionario si sono andati a posizionare. Perché sappiamo bene quello che sta accadendo negli ultimi mesi sui vari strumenti finanziari. Tuttavia, in questo video vi voglio, più che dimostrare, perché non posso prevedere il futuro, portare una tesi sostenuta però da tantissimi dati del passato, lontano e recente, che vanno a smentire questa proiezione. Quindi, se volete capire il perché, senza appunto avere la presunzione di essere il detentore della verità o del futuro, perché nessuno lo è, seguite questo video fino alla fine che verrete accontentati alla grande. E poi magari nei commenti mi direte la vostra, cosa ne pensate a riguardo. Se vuoi sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo, è importantissimo che vi iscriviate e lasciate un bel like. Io non vi rubo più altro tempo, vi condivido lo schermo del mio computer. Buona visione! Iniziamo i nostri studi con questo ritornello. Higher rates for longer, quindi tassi di interesse più alti e più a lungo, sono una buona cosa. È un articolo del Financial Times del 10 ottobre 2023. Tuttavia, ci sono tantissimi altri dati, se noi andiamo a cercare, che ci fanno intendere come sia tutt'altro che una buona cosa. Forse servirà a sconfiggere l'inflazione, la quale comunque è sicuramente indebolita rispetto allo scorso anno, ma ci sono realtà come la seguente. Questo ambiente di higher for longer, con dei tassi così alti, sta spremendo letteralmente i mutuatari. Ed è un discorso che riguarderà, può riguardare, sta riguardando, anche le aziende, le società, tutti coloro che sono coinvolti in un prestito, in un finanziamento. Anche un qualcosa che va a coinvolgere e andrà a riguardare sempre di più i governi stessi. Ma ora spostiamoci. Vorrei incentrarmi su questo grafico, su questa tabella. Stiamo osservando, per le annate future, dove si va a posizionare nelle sue proiezioni la Federal Reserve in termini di GDP per l'Estea Unita America. Ovvero, va a ipotizzare, a stimare, una crescita per il 2024, 2025 e 2026 del PIL americano per tutte le annate attorno al 2%. Quindi non vede davanti a sé alcuna recessione. Ha una forte sicurezza che procederà tutto quanto per il meglio, andrà tutto quanto bene. Una frase che abbiamo già sentito un po' di tempo fa, no? E guardiamo qui alla sinistra come sono i movimenti a volte del PIL. È vero, sono stati degli anni particolari. Pandemia, poi il balzo ovviamente del PIL dopo il crollo. Ma è davvero difficile che si mantenga così stabile, fisso, attorno al 2%. Quindi è una proiezione che corrisponde più a un desiderio, un po' come la famosa inflazione al 2%, piuttosto che un qualcosa che sarà davvero simile alla realtà. Anche perché bisogna fare dei conti con tante scomode verità che non si mettono mai in luce. Ma facciamolo noi. Questa tabella qui va a ricordarci quelle che sono state le proiezioni fornite dalla Fed durante i suoi meeting. Ritroviamo le date qui, vedete meeting date e partiamo dal gennaio del 2011 e poi procediamo arrivando fino ai giorni nostri. Qui in alto invece possiamo avere il riscontro degli anni di cui si stava parlando per le previsioni. Quindi ad esempio, guardate, il settembre del 2012, proiezioni per il 2015, vedete 3.35% di crescita del PIL e poi si finiva a 2.1%. Anche qui, alla fine del 2022, all'inizio del 2022, cioè a fine 2021, all'inizio del 2022, per il 2022, c'erano delle proiezioni che giravano sempre attorno al 3-4% per la crescita del PIL. Salvo poi, in ogni meeting, durante l'anno, andarla a rivedere verso il basso, facendo i conti con la realtà. Quindi andandoci a scontrare con la realtà. Questo che vi sto fornendo serve per farvi intendere come le capacità di proiezione della Fed, per quanto riguarda la crescita del PIL americano, siano spessissimo sbagliate. Quasi sempre. Ma addirittura le proiezioni della sua stessa politica sono errate sul futuro. Proprio perché è quasi impossibile andarlo a prevedere, è pieno di variabili, ragazzi. Questa è la pura realtà. Ma una volta capito, quindi, che non si può dar retta a quello che ci dice la Fed sul futuro, perché essa stessa si sbaglia e non sa quello che dovrà fare, e non sa quello che accadrà, ci sono altri dati, invece, molto più importanti, molto più veritieri, e che rappresentano delle statistiche talmente forti da sembrare quasi inevitabili nella generazione di una realtà scomoda, ovvero recessiva. Andiamo a zoomare. Ogni volta, cosa stiamo osservando qui con la linea nera? Che c'è stato un forte aumento dei tassi di interesse, poi è scoppiata una crisi, inesorabilmente una crisi economica, di diversa natura, di differente entità, ma è sempre stato così. Guardiamo, ad esempio, le crisi recenti, quindi avviciniamoci di più all'attuale secolo. La .com, in asprimento dei tassi, vedete qui, 2000, 2001.com, in asprimento dei tassi, quindi una bella crescita dal 2003 fino al 2006, 2007, 2008, grande crisi finanziaria. E' accaduta la stessa cosa, anche se è un cigno nero, pure qui nel 2020, quindi si vanno a far crescere i tassi di interesse e bisogna tagliarli velocissimamente. Quindi, cosa notiamo da questo grafico? Essenzialmente tre cose, imprescindibili, che funzioneranno anche questa volta. E' davvero difficile che non funzionino. Notiamo, sempre un rialzo, quindi un picco all'interno della fase di rialzo dei tassi, inferiore rispetto al picco del rialzo della crisi precedente. Vedete qui, ad esempio, ogni volta c'è stato un rialzo, a metà degli anni 80 era più bassa qui rispetto alla fine degli anni 70, qui alla metà degli anni 90 era più basso rispetto alla fine degli anni 80. Insomma, ci siamo capiti qual è il discorso. Questa volta la situazione è diversa, ma tanto più ci si avvicina al picco della crisi precedente, tanto più bisogna arrestarsi e tagliare i tassi con furore, in fretta e furia, con intensità. Questa volta non solo ci siamo avvicinati al picco della vera grande crisi precedente, ma l'abbiamo pure superato. Infatti siamo collocati fra la grande crisi finanziaria del 2008 e quella della .com del 2001. Quindi questa volta, secondo voi, cosa accadrà? E come mai c'è questa struttura? Perché verso il basso? Perché col trascorrere del tempo la struttura del sistema economico-finanziario si è sempre basata di più sull'aumento del debito. Più il debito è grande, maggiormente le persone, le famiglie, le aziende, le società, i governi sono stati abituati a predisporre le loro politiche, le loro programmazioni finanziarie, economiche, di vita familiare, quotidiane, di business, sono dei tassi sempre più bassi, con dei debili sempre più alti, non possono ritornare al livello dei tassi precedenti, perché altrimenti il sistema economico-finanziario crollerebbe peggio del 1929. Ecco come mai vediamo questa struttura. e quando poi ci si ferma nel rialzo, quindi comincia a schicchiare qualcosa, la prima difficoltà vi è un taglio e vedete che non c'è un piccolo taglio. Notiamo qui nel 2000, nel 2008, notiamo anche qui nel 2020 che ogni mese praticamente bisogna effettuare un taglio, quindi ogni volta che c'è una riunione si annuncia un taglio, si innesca un meccanismo contrario rispetto a quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Ma come mai capita questo? Perché i primi tagli non sortiranno alcun effetto e se vi è stata la necessità di andare a tagliare i tassi vuol dire che l'economia è in difficoltà e come mai non avranno sortito effetto? Perché gli effetti sono estremamente tardivi. Ecco come si va a leggere la struttura inevitabile proprio del ciclo dei tassi di interesse. Spostiamoci ancora e notiamo un inasprimento delle condizioni finanziarie evidenziate qui dal Financial Conditions Index, guardate, che hanno raggiunto un livello grave, allarmante che ci segnala una difficoltà vera e pesante proprio di accesso a quelle che sono le condizioni finanziarie, quindi la capacità di finanziarsi, di accedere al credito, di poter pagare un prestito, tutto quanto quello che è connesso a questo sistema. Infatti vedete qui abbiamo Rate Spread e Lending Standards. E guardate, più va verso l'alto questo valore e più sta a significare che vi è un inasprimento delle condizioni finanziarie. Maggiormente va verso il basso, invece verso lo zero e più significa che queste condizioni sono distensive, vi è un facile accesso, vi sono delle politiche espansive di supporto e l'attuale livello ormai è praticamente pari a quello della Financial Crisis qua, Financial Crisis e della Dotcom, vedete? E questo è il problema. Dopodiché io andrei ancora avanti per andare a sottolineare le difficoltà della Fed di prevedere le proprie politiche. non è un qualcosa che io vi voglio soltanto raccontare per parlarne male, perché è impossibile riuscire a farlo, cioè questa è la verità, è impossibile, quindi è meglio affidarci su quelli che invece sono dei cicli inevitabili all'interno dell'economia. E però voglio fornirvi quelli che sono dei numeri, quindi prima abbiamo visto dei numeri per quanto riguarda gli ultimi 12 anni circa, 11-12 anni di proiezioni sempre sbagliate, future, sui prossimi anni della Fed in relazione alla crescita del PIL. Adesso invece guardiamo il tutto in relazione a quelli che sono i tassi di interesse. Quindi con le linee verdi tratteggiate cosa succede? Parte la proiezione da qui a 1-2-3 anni, diciamo questi sono più o meno gli orizzonti temporali, e quindi si va a dire dove si prospetteranno i livelli dei tassi di interesse. E poi con la linea invece azzurra vediamo la realtà dei fatti. E notate come vi sia quasi un'assenza di corrispondenza, ovvero le corrispondenze che sono ridotte rispetto a quelli che sono le non corrispondenze. Guardate, praticamente è stata una sovrapposizione soltanto fra il 2017 e il 2019. Tutto il resto dal 2012 fino ad oggi è completamente sballato. Negli anni attorno al 2012-2013, quando i tassi stavano a zero, e quindi quando si era finalmente cominciati a uscire da tutti i drammi della crisi finanziaria del 2008, si diceva, si prospettava, ma nel 2014-2015, avremo dei tassi un po' più alti, quindi delle condizioni più normali, senza esagerare nelle manovre espansive. Poi invece sappiamo come è andato anche con la stampa di Naro, perché si è voluto continuare a supportare a tutti i costi l'economia, che altrimenti in maniera autonoma non avrebbe avuto quella capacità di crescita che invece è riuscito a sostenere in quegli anni. E quindi ci dicevano, li aumentiamo, li aumentiamo, e invece gli aumenti sono stati tardivi, abbiamo vissuto tanti altri anni con dei tassi a zero. Dopodiché, altro momento eclatante, quindi non diamo tanto le colpi diciamo al 2020, prendiamolo come un cigno nero, ma vediamo qui le difficoltà anche di capire quello che uno dovrà fare, ad esempio nel 2021-2022, quando c'era l'inflazione che cominciava a crescere sempre di più, si faceva sentire, però davano quelle proiezioni qui partite in questi anni, per il 2020-2024, con dei tassi che potevano essere attorno all'1, al 2, non al 5.33, che poi è il numero che esce fuori, perché la Fed qui pensa che l'inflazione sia transitoria, mi è estremamente convinta, quindi l'inflazione è transitoria, è così, fidatevi il prossimo anno andrà in questa maniera qui. Quindi quando oggi ci dicono, sappiamo benissimo come andrà il prossimo anno, fidatevi, i tassi si faranno così a lungo, altri forse li alzeremo anche di più, e insistono a dirci questo, va bene, il mercato alla fine sente delle parole di cui non è tanto contento, e si continua a posizionare in questa maniera qui. Ma non possiamo fidarci, non ci possiamo fidare perché si sbagliano quasi sempre, la maggior parte delle volte, perché giocano a un gioco che in realtà è imprevedibile, con tantissime variabili. E inoltre ci troviamo collocati in un punto che suggerisce, perché è sempre accaduto così, che ci sarà un bisogno importante e forte di dover tagliare a un certo punto questi tassi. E allora, prima di salutarci, andiamo a vedere l'unico indicatore che tende a funzionare, anche qui non è una scienza esatta, quindi non c'è una corrispondenza del 100%, ma non esiste quasi niente di meglio, e di più funzionale e funzionante. Con la linea viola, osserviamo il rendimento delle obbligazioni, quindi dei tre risoli statunitensi con scadenza biennale, quindi a due anni. Con la linea invece, quella che vedrete a schermo fra l'arancione e il salmone come colore, vediamo l'effettivo, il tasso di interesse, vedete, della Federal Reserve, dei Federal Funds Rate, quindi i famosi tassi di interesse di tutti quanti noi parliamo. Qual è, fra questi due indicatori che si muove per primo, qual è quello anticipatore? Se fossero due medie mobili, qual è la media mobile più veloce che poi si trascina dietro l'altra? La linea viola, lo vedete? Quindi, la linea viola tende, guardate, sempre ad anticipare i movimenti dell'altra linea, quindi il rendimento dei Treasury, quindi le obbligazioni governative, americane, con scadenza a due anni, tendono a prevedere molto bene, anticipando, quindi il movimento, proprio il tasso effettivo, quello che faranno i tassi di interesse. Lo vedete? Tant'è vero, qui vi ha un incrocio dall'alto verso il basso nel 2000, si trascina poi giù i tassi di interesse e si scatena una recessione. È successa la medesima cosa qui nel 2006-2007 e poi abbiamo vissuto il 2008 e è successo poi alla fine qui anche il 2019 e in questo momento, guardate, è stata sempre superiore qui il rendimento, quindi cercare di proiettarsi sempre in avanti, portarsi in avanti il rendimento delle scadenze a due anni, quindi di anticipare quello che effettivamente avrebbe fatto l'ambiente di tassi di interesse, ma poi negli ultimi settimane, negli ultimi tempi, ha scelto di collocarsi al di sotto. Quindi se noi leggiamo nel passato e sappiamo quali sono i meccanismi e abbiamo visto come la Fed, gli esponenti, i Powell ci dicano sempre che i tassi dovranno rimanere alti, l'unica cosa che prendono in considerazione nel prossimo futuro non è un taglio ma un rialzo, però intanto qui si sta cominciando a formare un tetto perché hanno interrotto per ora il rialzo dei tassi. Quindi parlano ma non stanno eseguendo quella politica. Ora c'è un mantenimento degli stessi. Pertanto la configurazione sembra molto simile a quella del passato e anche la necessità poi di andare a tagliare questi tassi all'improvviso e con forza in maniera continuativa fino a portarli in qualcosa che assomigli quasi allo zero se non allo zero proprio perché l'economia va in difficoltà e va in difficoltà anche e soprattutto per colpa di questo ambiente con dei tassi così elevati. Bene ragazzi siamo qui giunti alla conclusione del video. Vi ho raccontato tutto quanto quello che volevo vi ho portato tutti quanti i dati a sostegno di questa tesi che in realtà sembra inevitabile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate io vi do appuntamento a prestissimo e come sempre lo sapete nell'attesa vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti. A presto e ciao!